Poi c'è già un conto, sono... Vai, diamo... Apre! Lì, 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 lì! Bambani è femmelluto! Perfetta, dentro! Mano di camoscio, metà! Zero! Zero, uno! Apri! Apri! Allora, non c'è un conto, non c'è un conto, non c'è un conto. Tre, uno! Riempi, parti! Taccato un bello, taccato di spalla! Ancora! Senza Marco non passare, che va bene! Va bene! Scusami! Tre, due! No! Vicino! Non è la difensora, secondo me? Buona ricorsa! Buona ricorsa! Sì! C'è la tappa! Buona ricorsa! I difensori in giro verso i lati dei fiammi. Apri. Ciro. Apri. Dai. Quattro balli, Andre, ricordi che devi sempre fare un colpo diverso. Gira. 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 Sì, ho capito. Quattro balli è la quinta linea di fila, cioè... Ma meglio che se lo sceglie... Apri. Guarda, guarda la linea. Sì, guarda la linea. Quattro sfinto, non c'è mai pensare a fare i colpi di fila. Guarda, ti accolgo la peccata. Esatto. Dai, no. Quattro e cinque. Apri. Cinque passi, sei un po' anche. Sì. Cacci. Apri. 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 Cinque. Ah, via. Eh, vado, Marco. E' delosato una forza. Vabbè, non può fare un sbaglio negli ottonetti, se si incasca, si incasca nel sbagliato sport, se la fa la polo andrà di 0.2 che è tanto a sbagliare la nera e andrà a ci passare ciccioli infortunati. Ma che lo sbagliato è alzata, bella! 6-8 6-9 Se ne ha chiamé prima, si sapeva di picchiare 6-10 Carichi il braccio in volo per troppo tempo 5-10 Carichi il braccio in volo per troppo tempo 6-10 Vale Apri Apri 5-10 Grazie 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 Vai, guarda lì! Spadre! Apri! Uno, sei! Orone ha scoperto la monster! Orone ha scoperto l'altro dubito che si è freddito! Un punto a sei dove è staccata un di palla! Apri! Un punto a sei! Fresi ha scoperto che il freddo ha scoperto la monster! Si sa che non c'è domenica più la traccia di noi! Fresi! Il freddo ha scoperto che il freddo ha scoperto la monster! Mi ha scoperto che possiamo toccare! Apri! Apri! Ehi! Ehi! Visto! Veloce! Quattro sette! Questo potente eh! Questo era veramente bello! Si così! La misura! La mano porcina! La rimunta! La scopera! La scopera! La scopera! La scopera! La scopera! La scopera! Fai se! Parma! 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 Riguera! Sento senso! Andro se poi non ti ha finito fare occulare la bella! Se lo devi trattenersi! Poi ti fai? Per cui ti fai? Non rimane in casa la tua parte. Apre, vediamo una. Gatta, dai, stagata. Niente! Sei! Si, si, si! Sarebbe il valore! Ma, ghiada, che ci sono la stanza. Te li fa acare, la cia. Si, si. Ehi! Dai, stagando! Dai! l'avete scaldato la bestia lo chiamano sestoide e lo chiamano 8-7 lui è a rock lead 9-7 adesso che vuoi sticamentare si apre sul personale a persone vai a me 9-8 mamma mia avete scaccato la bestia dell'est vai l'avete 18-8 attenzione para, para 5-1 1-0 0-0 10-9 marco la rincorsa si mette sempre lo sbuccio andiamo fresia fresia vai a fare il culo Alberto 10 pari 10-11 10-11 mamma mia ma Paolo ha detto che non piasta niente va è inizio vai per te in grado già grande difesa Morsini vai vai 11-12 11-13 vediamo che il foro è finito 11-14 avete svegliato il bossino 12-14 svegliato il bossino è finita per voi questo è importante 13-14 questo è uno champignolo 14 pari 14 pari 14 pari brutto coglione eh punto 4-14 14-15 14 pari 15 pari 15 pari 15 pari 15 pari 15 pari Amico, la sciampolata morbida è tutta l'ora Dio scusa, il mio messo fosse già sul para